Numerosi fedeli oggi rinnoveranno il rituale religioso popolare legato ai festeggiamenti di Maria Santissima delle Grazie. Anche quest'anno, così come è accaduto il 2 luglio scorso, la ricorrenza sarà molto partecipata, sempre in ricordo del parroco della chiesa dei Cappuccini, fra Rocco Quattrocchi, scomparso il 5 giugno del 2015, doveva avere combattuto contro una spietata malattia. Il ricordo della saggiordote è indelebile in ognuno di noi. Il corte oggi sarà aperto da Raffaele Dos Santos, vecario parrocchiale, e da Fra Gaetano Lasperme, ministro provinciale. Alla tradizionale processione, che per l'inizio intorno alle 16, avverrà come consuetudine la svestizione dei bambini dinanzi al simulacro della Madonna. Un momento toccante e commovente. A Maria Santissima delle Grazie da sempre si rivolgono i genitori dei bimbi, un modo per affidarli alla Madonna e chiedere la sua benedizione. Una devozione tra canti e richieste di aiuto in un momento assai difficile che interessa la città. Si pregherà per i tanti bambini gelesi affinché vengano protetti dalla Madonna e per i tanti malati che lottano contro il tumore. Come tradizione vuole, dietro al simulacro della Madonna ci saranno donne e uomini scalzi. La processione partirà dal piazzale della chiesa dei Cappuccini, raggiungerà l'ospedale Vittorio Emanuele per poi proseguire per via Manzoni e subito dopo raggiungere il centro storico fino al museo archeologico. E da lì il ritorno in chiesa, all'arientro della Madonna, fuochi d'artificio a mare ad ovest del pontile sbarcatoio. Grazie Grazie Grazie